tanto legno un illusionista che aveva preso in mano l'orologio di mio marito gli disse che vedeva intorno a lui tanto legno il giorno in cui sarebbe morto un papa che poi fu paolo sesto qualche mese dopo mio marito è morto a cos in apnea mentre eravamo in viaggio di nozze in grecia per avere la bare in italia ho dovuto farmi raccomandare dall'addetto militare ad atene perché commento perché l'illusionista era un veggente che si era legato al futuro in cui nell'eterno presente era rappresentata la morte di tuo marito e del papa